Ciao a tutti sono Vittorio e benvenuti in questo nuovo video Quest'oggi andremo a vedere altri 5 vecchissimi scherzi che potete fare i vostri amici, parenti, cugini, nonni, zie, insomma ovunque Ma prima di iniziare il video saluto su Instagram Chisu7788 e la chicchia Ciao! E se anche voi volete essere salutati scrivetemelo sul mio profilo Instagram ed io vi saluterò nel prossimo video Quindi cominciamo subito Ok ragazzi questo scherzo è una figata assurda Per farlo abbiamo bisogno di un po' di ketchup e del bicarbonato di sodio Già lo so succederà un casino e mia madre mi ucciderà Però ne sarà basta appena fidatevi Quindi apriamo il ketchup e mettiamo un po' di bicarbonato all'interno In genere bisognerebbe metterne un cucchiaino Però io ne metto 3 perché sono pazzo Chiudiamo e iniziamo a shakerare Oddio non si sente più il rumore senti Non so se vi rendete conto ma abbiamo creato una bomba Mamma io ho paura mamma fa che non succeda niente per favore Per quest'altro scherzo avremo bisogno di una bottiglia d'acqua e dell'aceto Aprite l'aceto e versatelo all'interno della bottiglia Non cadere bro Mamma mia che puzza Adesso non mi resterà altro che offrire l'acqua alla vittima E godervi lo spettacolo E in questo caso la vittima sarei io Ok ok provo ad assaggiarlo Ok fa schifo Avete presente questa scena del re leone? Tutto quello di cui avremo bisogno è una bottiglia di ketchup E andare vicino a un amico e dire Simba Simba Ragazzi se lo fate anche voi e i vostri amici mandatemi video su facebook che io li pubblico Vabbè credo che ognuno di voi sappia cosa significhi coca cola e mentos Tutto quello che dovrete fare è collegare due mentos a uno spago E incastrare il filo sul tappo della coca cola E non fate come l'idiota del video che come un cretino ha fatto cadere le mentos mentre stava preparando lo scherzo Prendete una moneta e della colla Incolate la moneta su un tavolo e aspettate che si asciughi In questo modo non appena passerà qualcuno dirà Oh una monetina è scintillante Ehi ma perché non riesco a prendere Ok ragazzi adesso proverò a fare uno scherzo a mio padre con la pepsi Non so cosa succederà però voglio provarci No vabbè che dico Apri E' aperta Vittorio ma che c***o parta Vittorio no Vittorio ma che porca di muri No Ma non ce la faccio questa c***a Beh è stato divertente Bene ragazzi se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale E vi ricordo che se volete essere salutati Scrivetelo sul mio profilo Instagram e io vi saluterò nel prossimo video Noi ci vediamo come sempre alla prossima Ciao